La prima monografica in Italia è dedicata a Ruth Horkin, una delle più grandi fotoreporter americane del Novecento. È una mostra che raccoglie l'opera di quest'artista facendola provenire proprio dall'America. Quasi tutte le fotografie sono stampe vintage che vengono proprio dall'estate dell'artista stessa. Quindi è veramente un'occasione straordinaria per scoprire questa fotografa al meglio della sua produzione. Grazie per la visione!